Tre trasferte e una in casa. Sono gli impegni delle formazioni abruzzesi nel turno infrasettimanale di domani alle 14.30. Il Chieti, che ha visto sfumare il successo domenica all'Angelini contro il Fano in pieno recupero, è chiamato a fare bottino pieno in casa del vasto Girardi per non rischiare di allontanarsi troppo dalla battistrada San Benedettese che ha due punti in più. Viceversa, la compagine molisana è in coda al Girone F con appena quattro punti, è reduce da cinque sconfitte consecutive e in panchina siede il nuovo allenatore Marmorini. Mister Chianese avverte il pericolo ma chiede ai suoi i tre punti. Ha avuto un campo di guida tecnica e quindi uno scossone può dare, specialmente quando una squadra che sta giù moralmente e con i punti può dare uno scossone. Domenico non è venuto, giocano in casa e quindi magari l'allenatore ha avuto modo anche di poter lavorare un po' di più sull'organico e quindi è una squadra che noi, come dico sempre, diamo importanza. Però come ho detto stamattina alla squadra dobbiamo dare importanza a tutti, continuiamo a dare sempre importanza a tutti ma noi siamo il Chieti, abbiamo la qualità, abbiamo la forza, abbiamo la rabbia di quello che è accaduto domenica per il golo che è stato preso negli ultimi minuti e quindi questa rabbia si deve trasformare in energia positiva e quindi andare lì a dettare i nostri ditti, a dettare la nostra voglia di vincere la partita perché noi andiamo lì per fare solo ed esplicitamente il bottino pieno. Per la trasferta venduti 111 biglietti sui 250 a disposizione. Esame importante se non decisivo per l'Aquila, affano un solo obiettivo per il rosso-blu, la vittoria. Dopo l'ultimo pari interno col Roma City la squadra di Massimo Epifani è scivolata a meno 7 dalla vetta. Le perplessità e i mugugni aumentano all'interno della società e della piazza. Ci sarà bisogno di tante cose, soprattutto di quei calciatori che probabilmente hanno funzionato di intermittenza e anche della serenità e capacità di un tecnico chiamato a fronteggiare una situazione inattesa dopo poche giornate. Oltre agli infortunati Alessandro e Bacio Terracino, non sarà del match il portiere Guarna. Arrivato lunedì vista l'assenza di calciatori di movimento classe 2005, nei prossimi giorni verrà ufficializzato del Moro, quindi tra i pali ci sarà ancora Michelin, l'unico a superare la sufficienza domenica scorsa. Da non perdere anche la sfida del Dei Marsi tra Avezzano e Campobasso. Due squadre propositive e prolifiche in attacco, 15 reti all'attivo, i marsicani 17 e i molisani. L'Avezzano vorrà riscattare lo stop esterno di Termoli provando il colpo grosso. Il Campobasso scoppia di salute, reduce da tre vittorie consecutive sotto la guida del nuovo tecnico Vercolizi e vuole continuare la corsa di vertice. Infine il notaresco che a Riccione vuole allungare la striscia positiva di 5 risultati utili. Non sarà facile ma i mezzi per provare a fare punti ci sono tutti.